Musica Parte il progetto Insieme per il Gubbio con un gruppo di tifosi rosso-blu pronti assieme alla società a ricreare rinnovato entusiasmo attorno alla squadra. Mercato in Porta Ceravaglia in difesa vicini Filippini a Ziosmanovic e lo spagnolo Munoz. Massiccio numero di presenze, 700 solo per la giornata finale per il secondo torneo di Calcia 5 Nicchi Angeloni con chiusura ospitata dal superbo scenario di Piazza Grande. Eccellenza Alessandro Sandreani, nuovo tecnico dell'Angelana. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione sportiva. Novità multiple in casa Gubbio. La prima riguarda un nuovo progetto che coinvolge alcuni volontari con la passione per i colori rosso-blu. Assieme alla stessa società Gubbina nasce di fatti il gruppo Insieme per il Gubbio che ha come obiettivo quello di organizzare e promuovere iniziative, movimenti di condivisione, idee ed eventi con l'obiettivo di ricreare entusiasmo attorno alla squadra e rivedere al Barbetti, un pubblico numeroso, innamorato e caloroso. Un progetto che avrà un continuo e censante lavoro basato su un programma delineato e concordato assieme al presidente del Gubbio, Sauronotari, per realizzare progetti, idee ed eventi che coinvolgano l'intera città e il comprensorio. Intanto, in ottica mercato, la società, in vista del prossimo campionato di Serie C, ha messo nel mirino il portiere Ravaglia, classe 99 di proprietà del Bologna, che dovrebbe essere affiancato dal parietà Zanellati del Torino. In difesa trattativa ai dettagli con il jolly spagnolo Rafael Munoz, classe 94, in uscita dal Marbella nella seconda divisione iberica. Per i laterali difensivi, oltre a Zanoni dell'Atalanta, piacciono il classe 95 Filippini, di proprietà della Lazio, e il classe 98 Aziosmanovic, della Sampdoria, ultima annata vissuta alla Vispesaro. Per il centrocampo ed attacco, gli obiettivi principali restano invariati, il regista Cenciarelli della Viterbese e il avanti Sarau del Monopoli. E la notizia era da tempo ufficiosa, ma ora assunto i crismi dell'ufficialità. Alessandro Sandriani, ex tecnico, nonché giocatore, capitano e bandiera del Gubbio, e il nuovo allenatore dell'Angelana in eccellenza. Sandriani vanta due esperienze in panchina, avendo allenato prima la formazione Juniores del Gubbio nella stagione 2015-2016, quindi la Berretti dal 2016 al 2018, e poi dalla fine di marzo è stato chiamato alla guida della prima squadra, fino di marzo 2018, al posto di Dino Pagliari, guidando proprio la prima squadra Rosso-Blu alla salvezza in Serie C. Confermato per la stagione successiva è rimasto alla guida della formazione Eugubina fino alla fine di novembre. Complessivamente, Sandriani ha collezionato 20 gare di allenatore nel calcio professionistico. Per ciò che riguarda invece la carriera da calciatore, il centrocampista originario di Cantiano, ha messo insieme oltre 350 partiti ufficiali da professionista, di cui 32 in Serie B. Nella sua nuova avventura all'Angelana, il tecnico marchigiano avrà con sé il collaboratore e preparatore atletico Enea Corsi, con il quale ha già lavorato a Gubbio, e il preparatore dei portieri Massimiliano Aristei, già presente nello staff tecnico giallorosso nella passata stagione. E proprio nei giorni scorsi il DF dell'Angelana Gervasi aveva sistemato la difesa con il duo Nanni Baronci. Lo scorso anno, punti di forza rispettivamente di Nuorese e Nestor. E a proposito di Sandriani e di Gubbio Calcio, vi preannunciamo che stasera per TRG Archivio riproporremo numerosi servizi tratti dal DVD celebrativo prodotto da TRG. Dal titolo Eravamo in 5000 a gridare Serie B, dedicato alla splendida cavalcata vittoriosa del Gubbio della stagione 2010-2011. Appuntamento fu TRG alle ore 21. E restiamo al calcio, ma per rivivere ciò che è stata la seconda edizione del torneo di Calcio 5 Nicchi Angeloni, organizzato dall'Atletico Gubbio, con le finali ospitate dallo spettacolare scenario di Piazza Grande. Vediamo. Divertimento e passione nella memoria di due grandi Gubbini che hanno caratterizzato in modo indissolubile il calcio cittadino. Questa è stata la seconda edizione del Memorial di Calcio 5. Enrico Nicchi Pittino Peppa Angeloni, organizzato dall'Atletico Gubbio, con il supporto dell'amministrazione comunale, chi chiude così, con il sorriso, un'annata agonistica davvero memorabile per la scuola calcio gubina. Tantissime le presenze, sia per quanto riguarda le fasi eliminatorie che si sono svolte negli impianti del cambiotti di Zappacenere, che le finali, che hanno avuto come incantevole teatro la cornice di Piazza Grande, con oltre 700 presenze solo nella giornata conclusiva. Ben cinque le categorie con altrettante finali. Per i Pulcini Trionfacci Picchia, con Giovanni Gichero, eletto miglior giocatore. Negli esordienti, Atletico 0-6 fa proprio il trofeo e spicca Pietro Marinelli come migliore della categoria. Nell'Under 15, vittoria del Black Team, con Tommaso Piorucci, miglior giocatore, e nell'Under 17, successo degli Amici del Blonde e Giacomo Pascolini, eletto MVP. Infine, per la categoria Senior, a spuntarla è FC Inter, che supera solo ai rigori per 19-ES rappresentanze, con il capitano della Vis Gubbio, Lorenzo Martella, eletto miglior giocatore di un torneo di estremo fascino, che testimonia la volontà dell'Atletico Gubbio di far crescere e coinvolgere, soprattutto i più giovani, in maniera competente e formativa, ma sempre all'insegna del divertimento e dello stare insieme. È fatto per ricordare due persone, come Peppe e come il Pittino, che hanno dedicato la loro vita al calcio, per far giocare a calcio i bambini, i ragazzi, per crescere delle persone educate, corrette. Quindi penso che non ci sia modo migliore per ricordarle che vedere tanti bambini, tanti ragazzi che in questi giorni hanno giocato a pallone ininterrottamente, tantissime partite, e tante persone che sono venute ad assistere alle partite, quindi credo che sia stata una cosa bellissima. Il torneo è chiaramente di promozione per la nostra struttura, che è chiaramente quella dell'Atletico Gubbio. Infatti siamo molto soddisfatti perché hanno partecipato tantissime squadre, addirittura 14 senior, più 20 globalmente per quanto riguarda i piccolini, che vanno dai pulcini fino alla categoria allievi, quindi siamo molto contenti e soddisfatti. Spazio ora al volley la Serie A1 femminile, perché dopo un tentativo di ingaggio già nel mercato d'inverno della scorsa stagione, la Bartoccini, forti infissi, accoglie nel suo organico Veronica Angeloni, schiacciatrice toscana in forza alla Sirio dal 2008 al 2011, che torna così a giocare al Palabarton. Giocatrice dalla grande esperienza ai massimi livelli nel campionato italiano, vestito le maglie tra le altre di Novara, Chieri, Piacenza, Conegliano e Pesaro, ha potuto vivere anche alcune esperienze oltre i confini con Odizzovo in Russia e San Rafael in Francia, vincendo con quest'ultima il Tricolore. Per lei successi anche in maglia azzurra, come il campionato europeo Juniors del 2004, ufficiale anche l'innesto in seconda linea di Giada Cicchetto. E verrà presentata venerdì 5 luglio, all'ore 11.30, presso la fede del Circolo Tennis, in Leonardo da Vinci, la quarta edizione del torneo professionistico di tennis maschile ITF World Tour, in programma a Gubbio dal 15 al 21 luglio. Per la prima volta quest'anno la competizione sarà preceduta da un torneo open di prequalificazione che si svolgerà dal 6 al 13 luglio, sempre al Circolo Eugubino. E in chiusura ricordiamo che stasera alle 22.30 fu TRG per sport e incontri, focus sulle eccellenze dello sport femminile regionale. E' tutto anche per questo appuntamento con l'informazione sportiva su TRG che torna puntualmente domani sera. Grazie a tutti e buona serata.